Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video in cui registriamo un, non sarà un gameplay, ma sarà una cosa particolare, cioè Omegle, penso di averlo pronunciato bene, sì Omegle, e praticamente per chi non lo conoscesse è una video chat pubblica e random, quindi noi come potete vedere ho attivato la webcam, mettendo un new chat incominciamo a girare e a incontrare via webcam gente casuale nel mondo. Mi scuso per la qualità della webcam, se magari vedete il video indietro e l'audio avanti, ma purtroppo non ho una webcam, quindi sto usando il telefono collegato con il wireless. E niente, possiamo iniziare subito, mettiamo new, ok, new chat, salutiamo, sì così salutiamo, e non c'è cagato, vaffanculo, andiamo, sì, ok, vaffanculo, vaffanculo. E cazzo, uno con una webcam non c'è uno, ma che cazzo è? E che cazzo è? Eh? E che cazzo non arriva neanche... Eh vaffanculo, va, vaffanculo, 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 vaffanculo. Va, ciao. Ciao, quanti anni hai, due? No. Ciao! Ciao! Eh ma vaffanculo, rispondimi, cosa sei inutile? Ciao! 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 Vaffanculo. Vediamo che effetto fa la banana Magari non ho scritto Oh cazzo Vediamo se è così magari qualcuno Cazzo Vaffanculo Cazzo è una ragazza porca puttana Che schifo Niente ragazzi Anche per oggi questo video finisce qui E al solito se vi è piaciuto mettete mi piace Commentate Iscrivetevi alla pagina facebook Che trovate nella descrizione Sempre qui sotto Cliccate questo Il pollice Al prossimo video Ciao